Ciao Vets, benvenuti in un velocissimo vlog solo per dirvi un paio di cose Allora, essenzialmente, non so se lo sapete ma può essere Io vi dico solo che quest'anno sono in quinto superiore e come quinto superiore io ho la maturità e sì, la maturità E la maturità significa studiare che io non ho voglia per poter uscire dalla scuola e forse dopo magari trovare un lavoro o magari andare all'università più o meno Visto che dovrò studiare come una merda, non lo farò lo stesso ma dovrò farlo lo stesso Youtube cala un po', è calato parecchio perché ci sono solo io che faccio video e non riesco a fare video quindi l'avevo un finito in dura E con la maturità ovviamente cala e naturalmente mi sa che vi state domandando che fine abbia fatto il giuffo L'ho tolto perché mi sono tolto le valle di farlo Esatto In ogni caso, cosa significa questo? Che i video caleranno o riuscirò a fare qualcosa ma molte cose veloci Esempio, farò molto Minecraft visto che la serie è molto più semplice da fare, molto più semplice da editare E tutto quello che gli va dietro ovviamente Perché registrare il signor iPad con Crash of Clans e Yu-Gi-Oh! porta via parecchio tempo Ovviamente resteranno però non aspettatevi che un episodio di Yu-Gi-Oh! o un episodio di Crash of Clans Tutti i giorni Cioè neanche un video tutti i giorni Ma può essere che esca perché magari ci sono le vacanze di Pasqua Magari ci sono le vacanze di Carnevale Magari ho più tempo e cosa quindi posso fare questa cosa qua Però l'unico problema è che come ho detto usciranno pochi video e su quei pochi video farò roba veloce Roba veloce intendo cose che si registrano magari direttamente sul computer Come Minecraft o giochetti del cazzo a culo E che non hanno bisogno tanto di etica Di editing ad esempio Non so Minecraft registro 20 minuti In quei 20 minuti taglio via le parti in cui non parlo E ho fatto il video E ci sto un'oretta dietro a fare tutto Però non è che ci metto 8 ore come fare video sull'iPad Perché l'iPad magari mi dà problemi il programma Mi dà problemi il gioco Non mi registra bene Non mi dà quello che mi serve Devo organizzare tutto Soprattutto Crash of Clans che devo organizzare gli eserciti E tutto quello che vi è dietro Poi magari devo mettere gli effetti Devo sistemare la webcam Devo fare quello Invece con Minecraft diciamo Basta che sistemo la webcam Faccio renderizza a posto Questo è essenzialmente Quindi un ruolo di lui solo questo Sappiatelo che quando arrivate in quinta E avete la maturità Non è che siete invogliati a studiare Perché avete la mia notizia No Avete ancora meno voglia Perché dovete State per uscire dalla scuola Quindi Libertà Davanti a un ostacolo grande Come una casa E i professori sono stronzi 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 Da dirti Quest'anno è la maturità Quante botte Vi vinceranno tutti Vacellina Manetta Vaffanculo 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 Chiudo la porta e me ne vado Penso che lo faremo in multi Mi sa di sì E un'altra cosa Vi invito A guardare quelli di Minecraft Perché non è Minecraft normale È Minecraft mio Non è survival Merda Quelle cose là Mode Cose È tutt'altro È una roba più divertente Secondo me Fatta meglio Sì E guardatevi la serie di Parkour Perché è bella Comunque per questo Mini vlog è tutto Come sempre da DJ Linea allo studio Ciao